Un successo annunciato con numerosissimi visitatori, la mostra internazionale di arte contemporanea curata da Monica Ferrarini che si è svolta a Roma presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, lo storico palazzo costruito fra il 1486 al 1496 per il cardinale Raffaele Riario Camerrenco di suo zio, Papa Sisto IV. C'era attesa perché fra i grandi artisti ha partecipato con le sue opere, poi molto apprezzate, anche il famoso maestro Mario Guarino, pittore di origini napoletane, ma milanese di adozione che espone le sue opere in tutto il mondo. Inutile dire che i suoi capolavori presentati a Roma, Il Giardino dell'amore e Oltre i confini, questo è il titolo delle opere, hanno avuto un grande apprezzamento da critici e appassionati. Quando e a che età nasce la sua passione per la pittura? La passione praticamente nasce già dall'infanzia. La mia maestra mi diceva quando veniva mia madre per i colloqui, il suo figlio è un pittore, lo dovrà mandare all'Accademia di Belle Arti quando sarà, insomma, quindi in breve e tenere età, insomma. Quando invece si è reso conto di arrivare ad un livello così alto come è arrivato adesso? Beh, si tenta sempre di fare delle cose maggiori e al meglio di quello che uno desidera fare, insomma, quindi non c'è un limite praticamente a quello che uno vorrebbe poter arrivare a fare, per cui si tenta sempre di migliorare e quindi ben venga quello che si riesce a fare di più, per offrire delle cose diverse e nuove a coloro che ammireranno le opere, insomma. Ecco, lei nelle sue opere, nella sua creatività, lancia anche dei messaggi? Indubbiamente, perché praticamente essendo un figurativo alla base, ma c'è un simbolismo per cui le figure assumono un significato diverso, mi consentono di lanciare attraverso loro stesse un messaggio a coloro che guardano le opere e praticamente affondo la mia tematica alle problematiche sociali in vari settori, insomma. Come vuole essere definita la sua pittura? Io amo molto gli impressionisti, quindi sono partito ispirandomi a loro, dai colori, dal cromatismo, dalla luce viva degli impressionisti, i macchiaioli. Mi sono ispirato poi per il simbolismo, a cui fanno parte grandi pittori, tra cui Magritte, Dalì e tanti altri, insomma. Lei ha una sua scuola, con molti allievi. Qual è il consiglio che dà spesso ai suoi allievi che frequentano? Il consiglio è alla base quello di fare le cose con compassione, con costanza e credere in ciò che si fa, sempre. C'è qualche artista di oggi o di ieri che le si ispira in modo particolare? Diciamo, come dicevo prima, per quanto riguarda gli artisti come impressionisti, ma né monè e come persone che hanno adottato il simbolismo, come Magritte, come ho detto prima, Dalì e altri ancora, insomma. Poi ci ho messo del mio, seguendo questa corrente che è stata una cosa che mi ha dato molte possibilità di approfondire un discorso non solo pittorico, ma anche tematiche che riguardano tutti noi, insomma. Ecco, a parte l'appuntamento di oggi, un appuntamento prestigioso qui nella struttura del Vaticano, quale sarà il suo prossimo impegno, quale sarà la sua prossima mostra? A fine anno io ricevo molte offerte di esposizioni in varie parti, non solo dell'Italia, ma anche all'estero. Quindi farò un computo di quello che mi sarà arrivato per poi provvedere e scegliere un'offerta migliore. Vediamo se in Italia stessa o all'estero è una cosa che farò col nuovo anno, praticamente. Si sente di dare un messaggio a chi si avvicina, ai giovani che si avvicinano alla vittura? Ecco, avvicinarsi non soltanto perché l'arte in se stessa è una cosa tra le più belle, pure che ci restano, specie oggi come oggi, insomma. Quindi per seguire questo obiettivo, anche se non si è capaci, diciamo, materialmente di operare in questo settore, però amare l'arte, la pittura e non solo, tutte le arti visive, ma anche la musica, tutte le cose che fanno parte delle cose belle della nostra vita, insomma. Da Roma è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it